Pensa in italiano di Antonio Libertino Musica di Kevin MacLeod 21. A. Che cos'è questo? B. Che cosa sono questi? A. È un libro. B. Sono due libri. A. È un libro. B. Sono due libri. 22. A. Che cos'è questa? B. Che cosa sono queste? A. È una penna. B. Sono due penne. 23. A. Che cos'è questo? B. Che cosa sono questi? 24. A. Che cos'è questa? B. Che cosa sono queste? 25. A. Che cos'è questo? B. Che cos'è questo? A. Che cosa sono questi? A. È un divano. B. Sono due divani. 26. A. Che cos'è questa? B Che cosa sono queste? A È una poltrona B Sono due poltrone 27 A Che cos'è questo? B Cosa sono questi? A È un letto B Sono due letti 28 Cos'è questa? È una coperta E tu? Quante coperte hai nel tuo letto? 29 A Che cos'è questo? B Che cosa sono questi? A A È un cuscino B Sono due cuscini 30 Ci sono altre cose in un letto? 30 Ci sono le lenzuola Che cos'è questo? Sono due cazzo? Che cos'è? Direi ralge Dì? Di Grazie a tutti